ULTRA ATTACK INDUSTRIA Mi sa che ho sbagliato la zona? Ma infatti non è questo, ma vaffanculo che ho sbagliato pure l'arena Ah! Però è bella potente anche questa, bro! Aio! Non me ne è giusto che mi fa le combo freaker le signore Quando può essere infrasicato il signore Spinal? Pirati dei Caraibi non si sa, è ancora in alto mare il progetto E devo andare a riaccattare le frezze Aia! No medium Mamma mia! Le frezze raccattiamo Sapendo cazzo stanno le altre Vai uccellino I stili di botte tutto Devo avere più spettatori invece sono le due frezze eh! Lo cazzo sono tutte le altre frezze che ho mollato su e fatelo là Oh! Così non faccio la Supreme Victory? Ha un fame! Minchia c'ho solo una frezza Oh! Supreme Victory? Ha! Dai ci siamo fuori l'obiettivo? Dai! No! Non ho fatto Supreme Victory! Mu va fanculo! Vabbè si fa una rivincita giusto perché è uscita una bella partita Si può anche vedere se si riuscirà a fare un'altra partita perché è stato un match molto paritario Diciamo che è un livello basso anche su Spinal Very good match E quindi stiamo facendo una rivincitina ecco Che si può anche stare Mamma mia che cazzo di combo ho tirato fuori ma non è proprio un incatenamento dello spirito Ma che l'ho usata quasi alla fine Oh no! 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 Bravo! Questa f***ing arrow? Va in! Ammazza che forte! Ho fatto una counterfreaker! Ammazza te! Mi sta spegnendo il tuo speed! Dammi una Supreme Victory Christopher Colombo! Bravo che mi fa un altro scontro! Aia! No! Signor Spinal mi stia tranquillo però! E qui ti si! Let's eva un friendly match! Ma sta prendendo due che è proprio in metà basta! Ecco che sta usando un bombo proprio! Medium! Mamma mia che l'avevo sentito che stavo piando però non l'ho piato! Ready! Fight! Oh! Ehi! Eh! Gillespie però non fa un cazzo sto cazzo di falconiere bastardo! Che poi io mi chiamo Aquila! Oh eh! Ready! Fight! Uh! Che cazzo di corsa pazza ha fatto questo massimo! Mazzare! Mazzare! Ma vatta a Gound the Breger in volo di Sì! Comunque non ce la faccio fare la Supreme Victory Ci sta pure anche questo Dalla puttana C'è anche questo da dire e sottolineare Aia No Very good victory Bravo Perché se mi sbaglio Aveva fatto la mossa a lui E ha vinto lui con la contromossa Eh, rivinci da Eh, scusate Uh Bravo Però per concludere il video così Io non potrò perdere questo scontro E mi porterò immediatamente sul 3-1 È concludere qua la serie Questa è un bello contenuto Un bello video fatto bene Ok, veramente dopo Mamma mia Però mi sta a prim 2 E qua, eh, eh La serie Questo ragazzo mi ha toccato su 3-2 Eh Mamma mia Eh, bravo Tre quarti d'ora che sto tentando di fare questa qua E non me la fa Me la fa adesso Ma bello il teschietto Fantastico il teschietto Almeno Bronte Faccio fa la Supreme Victory Cioè la fa lo stesso Ness, però È due pari Supreme Victory Vediamo se Se è mantenuto il round È la Supreme Victory Almeno capisco bene Oh, perfetto Per fare la Supreme Victory Bisogna vincere Non perdere manco un round Quindi, eh Rimanere con la barra verde Dai, dai Ripeti, ripeti, ripeti Let's go Bello Due pari siamo Sì, la bella Che non è che sia Propriamente Incominzata Perfetta Perfetto Sto scontro E ciò non è che Mi piazza molto Come situazione Ah, porca Troia Che questo Vamo Incominzato Quale pombo E me deve rovinare Tutto il video Bro Why You ruin My YouTube Video Not Touch Sua Come Ha fatto Bloccar Me Che cazzo Fatto Fatto Roba Supporto Aereo E Carico Lo stesso Perché Comunque Sono state Belle partite Thank you Very much Bro For the match Ripeto Non so Se mi sento Però Supreme Victory Supreme Victory Lo stesso